La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato centinaia di migliaia di articoli commercializzati in assenza delle indicazioni di tracciabilità, sicurezza e qualità dei prodotti e quindi potenzialmente pericolosi per la salute. In particolare i baschi verdi della compagnia Pronto Impiego hanno trovato in esercizi commerciali situati a Mestre, Sandona di Piave e Concordia Sagittaria, gestiti da imprenditori di etnia straniera, circa 60.000 articoli per la pesca, per la casa e natalizi già in vendita sugli scaffali ma privi delle informazioni relative alla denominazione merceologica, all'identificazione dell'importatore, alla presenza di materiali o sostanze eventualmente pericolose o nocive per la salute dei consumatori. In un negozio sono stati anche sequestrati 200 kg di cibo per animali scaduto addirittura dal 2019. A Concordia Sagittaria le fiamme gialle del gruppo di Porto Gruaro hanno trovato 2.339 articoli di varia tipologia privi delle indicazioni previste, mentre a Cavarzra e la compagnia di Chioggia ha scoperto 6.900 articoli di Halloween e 8.850 metri di carta plastificata decorativa e tappeti. Anche nell'area portuale lagunare il gruppo di Venezia, analizzando le merci in ingresso, ha sequestrato più di 17.000 paie di scarpe provenienti dalla Grecia. I responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Venezia per l'applicazione delle conseguenti sanzioni.